Carissime amiche, carissimi amici, benvenuti sul canale, buona giornata, buona domenica a tutti quanti voi. Per il caso di Liliana Resinovic vi do appuntamento fra poco, alle ore 17, faremo una live, una live per fare un po' il punto della situazione, per vedere un po' alla luce di tutte queste polemiche che si susseguono, che appaiono anche sterili tutto sommato, insomma che cosa ne pensate? A cosa servono? Qual è lo scopo? Quali sono le speranze di dare un minimo di giustizia a questa donna? Credo che le speranze vede proprio non ce ne siano, perché purtroppo ostinatamente da parte di una buona fetta della informazione ci si accanesce a ricercare uno share, uno spettacolo ad ogni costo, un gossip ad ogni costo, pur di fare spettatori, pur di suscitare un tipo di interesse morboso, pruriginoso e quindi si invitano i personaggi che sono ritenuti più idonei in tal senso. E quindi parlare di piste alternative, di rivolgere lo sguardo a 360 gradi, di vedere se Liliana, seppur involontariamente, potesse essere capitata in qualche altro giro particolare. No, assolutamente no, assolutamente no, e assolutamente no, perfino nell'ipotesi che sembra quella più probabile per gli inquirenti del suicidio, perché questa ipotesi del suicidio viene osteggiata sempre da tutti coloro che, come dei creduloni, vanno appresso a questa fantasmagorica storia d'amore, per cui il suicidio stesso capirete bene che sarebbe la certificazione notarile di un qualcosa che non esiste, perché se una persona è talmente felice, congolante ed entusiasta di poter andare, insomma, a realizzare questo sogno d'amore quarantennale e poi si va a suicidare, significa che delle due luna, o impazzito, oppure non è mai esistito questo sogno. Quindi alle ore 17 ne parleremo insieme, quindi segnate già sotto al video promo di ieri, segnate già le domande, vedremo un poco di discuterne insieme. Ora, la breve riflessione di stamattina è che ha fatto molto scalpore, ecco, quella dichiarazione di uno Serpin, che tra le altre cose, permettetemi di dire, il commentatore Serpin, che io non sapevo di questa grande onoreficenza sul bavido della Jack, bellissima, quindi non sapevo che il commentatore Serpin avesse realizzato questo suo ennesimo sogno di prendere il posto di Sebastiano non solo nella vita di Liliana, ma anche sulla poltrona di quarto grado, dove era assiso proprio nella stessa posizione in cui le settimane precedenti c'era il suo pseudo rivale Sebastiano. E allora lui cosa ci ha detto sostanzialmente l'altro giorno? Che erano anni che questo matrimonio di Sebastiano con Liliana era finito e che lui erano ormai alcuni anni che era l'amante ufficiale e facevamo cose che, dei cameroni, cose inensabili. Che peccato però che ciò vada a contraddire quanto da lui stesso detto tante volte in precedenza che negli ultimi anni a seguito appunto di dolorose operazioni alla prostata non avesse possibilità eppure una volta disse sono amante ma per modo di dire ho ancora le ferite aperte. Quindi non si capisce secondo quale logica, secondo quale inventiva si possa andare a presto a questa cosa qui. Comunque è da lì il commentatore proprio per testimoniare la sua presenza quasi in veste di neoprocuratore della repubblica che era pronto a fare qualsiasi tipo di domande per per vedere se queste questo famoso alibi di Sebastiano avesse delle crepe perché lui poteva scoprire doveva scoprire dall'alto della sua autorevolezza diciamo così. Peccato che nessuno si chieda di fare lo stesso lavoro certosino anche nei suoi confronti e nei confronti di altri visto è considerato che si vanno a capillare certe cose che poi nemmeno c'entrano ma nemmeno c'entrano. Dice bene perfettamente l'amica Enza e Vince che che cosa mi scrivono? Scrivono in relazione alla polemica sulla GoPro questo è un lavoro ottimo ma ottimo ma nello stesso tempo inutile perché Liliana sparisce verso le 8 e 50 di quella mattina quando è provatamente provato che è rinquadrato anche dalle telecamere nonché testimoniato dalle celle telefoniche che che Sebastiano è alla consegna dei coltelli e dopo va nella sua officina quindi il periodo che in pura teoria potrebbe potrebbe in teoria essere stato un manomesso e un manomesso parliamo sempre da mezzo giorno in poi quindi è anche qualcosa qualcosa temporalmente fuori luogo quindi giustamente lei si chiede come mai non si sia applicato lo stesso zelo su su altri episodi come perché non si è applicato lo stesso zelo nel chiarire il motivo per il quale lo serpino sosta per diverso tempo quella quella mattina del 14 dicembre sotto la casa di Liliana e quindi come mai dispiace vedere diciamo sporcare la memoria di Liliana con queste bassezze ricordando anche degli episodi che probabilmente non sono mai avvenuti e servono solo a sollecitare un aspetto prodiginoso di cui non se ne avverte certamente il bisogno quindi si capisce pure e non ci si deve meravigliare più di tanto poi quando la procura della repubblica di trieste dice noi non siamo interessati noi siamo persone serie non siamo interessati al gossip quindi si capisce pure per quale motivo voi pensate no a proposito grossi prima mi è venuto in mente quello che era in auge qualche settimana fa il fatto dell'albergatrice che era stata telefonata dal dal sebastiano che fosse fintamente era rimasto sotto un ponte dice vieni qua vieni a soccorso dell'albergatrice che aveva ricevuto questa telefonata dice ah chissà cosa mi vuole fare forse questo sebastiano voleva ucciderla voleva farla sparire oppure voleva solo picchiarla ecco allora lei dice io non sono andata ma allora ecco non si fa un passaggio logico ecco perché il gossip voi ammettete che invece fosse andata questa albergatrice cosa sarebbe successo immaginate cosa sarebbe successo l'avrebbe picchiata l'avrebbe uccisa l'avrebbe fatta sparire bene e secondo quale logica quando mezz'ora prima c'era stata la telefonata ammessa dalla stessa albergatrice della del sebastiano che diceva vieni qua vieni qua mi devi aiutare e poi magari questa signora sarebbe sparita ecco possibile mai che il sebastiano questa altissimamente criminale di sebastiano vicintin sarebbe scivolato su questa grande buccia di banana ecco tanto per dire una quindi poi giovanni giovanni anche mi scrive e dice ma vi pare possibile ecco sono dei ragionamenti indotti queste dice giovanni ma voi pensate che il generale garofano che sa esattamente conosce esattamente tutte le carte in mano alla procura pensate che avrebbe mai accettato di fare il consulente di sebastiano se non fosse stato più che sicuro della sua innocenza e certamente c'è una logica questa riflessione perché il generale garofano non è da tanto tempo consulente di sebastiano sono alcuni mesi e pensate voi che un personaggio del genere con la sua autorevolezza con la sua esperienza non si sia informato prima bene non abbia visto bene tutte le carte per dire sì a sebastiano oppure pensate che lo abbia fatto per una sorta di mettersi in mostra non ne ha bisogno lui è conosciuto in tutto il mondo ex capo dei ris di palma non ha bisogno per essere conosciuto di essere consulente i consulenti di un sebastiano qualunque quindi emma emma mi ricorda e si ricorda le parole della cugina silvia alla quale un giorno fu detto ma non ci sono prove per andare contro questo sebastiano e lei che disse beh se non ci sono le troveremo quindi trovare insomma in qualunque modo e poi l'amica rina dice ma perché si parla solo di sebastiano sono stati verificati gli altri alibi vogliono solo fare spettacolo è stato verificato l'alibi di serpina e di altri ecco questa è la domanda che anche noi ci siamo sempre fatte daniela mi dice ma perché non si segue la pista dei soldi la pista di questi altri interessi ma cara daniele purtroppo ormai mi sono rassegnato non c'è più niente da fare il problema è molto semplice sul perché non si seguono piste alternative la pista alternative che io dico la pista economica generalmente però potrebbe essere una pista legata a qualsiasi tipo di interesse alternativo conosciuto ovviamente dallo serpino perché dico questo perché con lo serpino se tu ci fai due tre telefonate al giorno di un minuto vuol dire che qualcosa deve esserci quando lo stesso serpino dice che il furgoncino fuori al cimitero era diventato il nostro centro di smestamento qualcosa di significato allora mi sono fatto quest'idea che la relazione tra lo serpino e l'idiana ci fosse ma forse senza pensare di altro tipo di altra specie non so come dirlo di altro che non è stato mai indagato perché ecco dove ci si ferma dove anche la procura si è fermata si è fermata davanti a cosiddetto imbuto emotivo cioè presupposto che esistesse una storia d'amore che è finta ecco che non rimane altra spiegazione che l'imbuto emotivo che il suicidio perché perché fattualmente il marito non può essere stato e allora visto che si dice di questa storiella d'amore allora c'è l'imbuto emotivo ecco perché si paga in questo caso il peccato originale quello che io chiamo il peccato originale cioè il peccato di aver creduto a qualcosa che non esiste non testimoniato da niente da nessuno da nulla e alcuni dicono ma come si fa sono tanti messaggi e devo ripetere ancora una volta che da perizia informatica non c'è nemmeno un solo messaggio fra serpin e l'idiana ripeto non c'è nemmeno un solo messaggio tra serpin e l'idiana solo tante brevissime telefonate di cui contenuto è sconosciuto tranne una grande telefonata del giorno 13 dicembre di 16 minuti che è sempre stata prima negata poi minimizzata poi trascurata poi non detta semplicemente quando invece è lì secondo me il focus di questo di questo caso qui ma purtroppo non c'è niente da fare non c'è niente da fare quindi francesca poi mi fa notare la tristezza di quanto va raccontando serpin dicendo cosa facevate e lui che riferisce e passavamo tanto tempo ore guardarci negli occhi mano nella mano e ci guardavamo negli occhi e ci dicevamo ciao amore ciao amore ciao amore ciao amore per ore 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 ora io dico no ma cerchiamo di essere meno credibili nella nella stranezza nel delirio di queste cose qui ma diciamo amore ti voglio bene sarebbe più credibile ma ciao amore ciao amore non è credibile nemmeno come traduzione letterale perché sarebbe salutarsi in continuazione ciao è un saluto quindi voi pensate che per ore ci si salute ciao 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 perché 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 salutarsi in continuazione in continuazione si si potrebbe dire ti amo ad esempio in ipotesi proprio di delirio mentale si potrebbe dire ti amo ti voglio bene eh che che begli occhi che c'hai non per dire ma dire ciao amore ciao significa un saluto di tipo complessivo che non è non è credibile nemmeno dal punto di vista semantico nemmeno dal punto di vista linguistico espressivo ecco questo dice voi poi la sensazione è proprio quella che stiano raschiando il fondo del barile proprio quando il barile è vuoto insomma si mette le ultime gocce di quello che si trova evelina mi dice ma per quale motivo poi si ipotizza questo fatto di eh aver montato l'alibi della GoPro quando lui avrebbe fatto questa cosa ossia strusa che al di là anche delle sue capacità perché è è un confusionario proprio eh unico dice ma che che bisogno c'era di fare questo quando se ne sarebbe potuto stare tranquillamente dal bar a mangiare un panino e l'avrebbero visto in tanti e comunque si sarebbe creato un alibi voglio dire quindi è una cosa maccheronica quindi voglio dire proseguendo su questo crinale viene meno qualsiasi rispetto per questa donna tant'è che già è stata anticipata a questo grado che un invito per la prossima settimana ma vi farò vedere per le prossime settimane adesso questo Sebastiano se ne può stare a fare le sue saune in Austria e dove va lui tanto non interessa più a nessuno perché è stato visto che e lui va lì a dire delle solide cose mentre lo Serpin fa fa un fa spettacolo a modo suo quindi eh magari o accetta di venire Sebastiano però con a patto che faccia a botte nello studio lì quindi eh mettono i guantoni e e fanno un un incontro di boxe allora avrebbe un senso per lo scelto per lo spettacolo altrimenti se ne può stare anche a casa perché adesso su quella poltrona vedete Sebastiano cioè Serpin ha preso il posto di Sebastiano quello che era il sogno della sua vita no? di quello che dice nella sua fantasia e lui fantasticava di prendere il posto di Sebastiano nella vita di Liliana e ha preso ha preso invece il posto di Sebastiano a quarto grado e beh è sempre sempre una sostituzione eh ecco è come quando si dice Sebastiano dice che voleva andare in Brasile con la moglie e lui dice no voleva andare in Argentina con me Brasile Argentina facciamo il derby del Sud America e quindi e quindi bellissimo 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 comunque viene meno in tutto questo show mediatico viene meno quello che è il rispetto per Liliana perde la memoria di una donna che avrebbe meritato maggior riguardo è stata messa al pubblico ludibile è stato detto quante volte ha avuto l'abbosto che cosa faceva nelle saune cosa faceva ipoteticamente a casa sua le cose la eh l'idromassaggio delle altre illazioni i sardoni le cose non è stato risparmiato nulla questa donna che aveva fatto della riservatezza la sua ragione d'essere la sua vita la sua caratteristica di vita nel lavoro aveva raggiunto anche un ruolo abbastanza importante in regione era stimata voluta bene nessuno ne poteva mai parlare male una vita impeccabile almeno secondo quello che si pensava quindi poi quello che faceva nella sua vita privata noi non doveva interessare mentre invece come dire a volte si dice che i panni sposchi si lavano in famiglia nel caso della Resinovic i panni sposchi si sono lavati proprio in piazza pubblica e magari fossero stati panni sposchi proprio suoi sono magari panni sporchi anche degli altri che sono stati mischiati ai suoi panni quindi è stato passato per panni sporchi suoi anche quello degli altri quindi si è fatto un calderone senza rispetto senza decora senza senza veramente alcun tipo di misura di etica nei confronti di questa donna e questo dispiace ecco perché ecco perché ci auguriamo che tutto finisca presto non c'è non c'è più speranza che vengono prospettate altre piste altre cose bisogna soltanto chiudere perché ormai si è capito l'andazzo quindi vi vi rimando fra poco la live alle ore 17 in cui tratteremo un po' di questi temi qua insomma fatemi delle domande un po' più particolari e quindi ci sentiamo fra poco quindi grazie grazie buona domenica a tutti un abbraccio un caro abbraccio a tutti quanti voi